L'antico e il moderno Signori aprite che escono i cavalli di là E' la cosa più spettacolare, adesso arrivano i cavalli Pronti? La folla è straripante Mai tante persone Dopo due anni, sì, volevamo esserci Volevamo esserci tutti Ecco lì Ecco lì Ma come vuoi riuscire a noi? Alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. D'altro lato una femmina ed ecco Pontio Pilato che si avanza. Magnifico Luca alla guida dei suoi splendidi cavalli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.